Minchia Dandino fa un freddo esagerato. Buonasera, benvenuti e bentrovati amici effenauti. Ormai lo sapete tutti quanti, no? Che per me la street photography non può essere slegata dalla nostra vita quotidiana e dalle nostre esperienze di tutti quanti i giorni e quindi proprio oggi voglio portarvi con me in un viaggio nella fotografia però attraverso la mente e la meraviglia dell'innocenza anche se per noi adulti spesso prende il nome di incoscienza perché a pensarci bene mi sono sentito chiamare più di una volta temerario, sconsiderato, irresponsabile e alcune volte anche scriteriato. Oggi io non dovevo neppure farlo questo video perché ho un po' troppi casini personali e troppi impegni per la mostra e a proposito grazie a voi 107 che parteciperete. Noi ci stiamo rompendo il culo, è vero, però vi prometto che sarà bellissimo. In barba anche a tutti quanti quei saputelli che parlano, 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 parlano e poi non fanno niente oppure saltano sopra il carrozzone. Ecco, io non avevo preparato il video per questa settimana ma stanotte non riesco a dormire e quindi per evitare di mandare in pappa il cervello ho deciso di rispolverare un concetto che ho appreso un po' di tempo fa e così sarà un video chiacchierato stanotte per certi versi sarà intimo e per altri sarà fuori tema. Alcuni per questo motivo mi chiameranno polemico ma in realtà non lo sono e che io sono quel che sono come le mie fotografie come le vostre siamo veri C'è un tempo per andare dritti giù all'inferno c'è un tempo per tornare a saldare il conto c'è un tempo di chiusura è un tempo per volare c'è un tempo che fa storia è un tempo da ammazzare giorno in giorno c'è un tempo che ti vuole è un tempo che ti cerca c'è un tempo che ti chiama è un tempo che ti aspetta c'è un tempo che ti piombo un tempo fatto a rosa c'è un tempo che verrà e cambierà ogni cosa giorni, giorni Mentre scrivevo il mio libro Cartesio ti odio iperbolicamente io non stavo attraversando un bel periodo a dirla tutta stavo proprio sotto un treno però mi hanno aiutato molto la musica e la lettura e grazie a queste medicine mi sono imbattuto in un concetto molto affascinante che mi ha aiutato a vedere tutto quanto da un'altra prospettiva è il concetto della mente del principiante questa può sembrare un'idea stampalata ma l'ha proposto un tizio che si chiama Sunru Suzuki che è uno che ha costruito il primo tempio buddista fuori dall'Asia non era mica uno stupido o uno sprovveduto qualunque come potrei essere io ecco questo concetto quello della mente del principiante mi ha fatto riflettere profondamente su come possiamo mantenere sempre viva la nostra mente sempre giovane libera dalle limitazioni delle nostre conoscenze e dalle esperienze negative che abbiamo passato cioè senza i condizionamenti di tutta quanta la merda che siamo obbligati a masticare ogni giorno e visto anche che io sono una persona pesante mi sono anche chiesto prima di tutto chi fosse realmente un principiante e il principiante è una persona che sta iniziando a imparare a fare qualcosa per la prima volta quindi è qualcuno che ha gli inizi di un percorso che sia questo percorso legato all'apprendimento di una nuova abilità all'esplorazione di un nuovo hobby o all'inizio di una nuova professione o una nuova attività in musica per esempio un principiante potrebbe essere chi sta iniziando a suonare per la prima volta uno strumento e quindi familiarizza con le note di base con gli accordi i ritmi i suoni e nel contesto invece della nostra passione cioè la street photography il principiante è chi sta appena iniziando a esplorare questo genere fotografico oppure potrebbe essere chi sta imparando a utilizzare la sua prima macchina fotografica o a comprendere le basi della composizione o ancora potrebbe essere il principiante chi sta sviluppando l'occhio per catturare quei momenti spontanei autentici che si svolgono nelle strade proprio delle nostre città in tutti questi casi comunque il principiante è caratterizzato da un senso di curiosità e di scoperta e da un approccio fresco che non è mai condizionato e che può portare a una prospettiva unica originale e per certi versi anche un po' impertidente e proprio questo è il vero significato della mente del principiante cioè un concetto che valorizza l'apertura l'entusiasmo e anche la mancanza di pregiudizi soprattutto di fronte a quelle situazioni che ci risultano familiari però se noi volessimo estremizzare ancora di più questo concetto potremmo dire che i principianti per eccellenza sono i bambini cioè chi cammina per la prima volta chi guarda il mare per la prima volta chi parla per la prima volta o guarda per la prima volta un parco giochi o un panino del McDonald e così anche io stavolta mi sono sforzato di guardare il mondo con gli occhi di un bambino per uscire fuori dal mio pantano forse non è il modo migliore per risolvere i tuoi guai e di sicuro non è il modo che ti consiglierebbe chi si fa chiamare maestro ma è pur sempre un modo per non restare immobili perché ci vuole coraggio a guardare come i bambini perché il vero eroe non è chi ruggisce ma chi alla sera va a riposare per recuperare le forze e riprovarci di nuovo domani bella questa sì perché non è la mia ecco qua vabbè però Tullio tutto questo che cazzo c'entra con la street photography e soprattutto che cosa significa veramente guardare con gli occhi di un bambino e ancora Tullio ma come può il coraggio o questa nuova prospettiva arricchire il nostro lavoro di street photographer e la creatività che tutti quanti noi abbiamo dentro e pia calma perché adesso ci arriviamo in una delle tante mie serate buie come possono essere questa solo a casa a fissare la parete in cerca di una via d'uscita ho iniziato a vagare con i ricordi proprio di quando ero un bambino e uno dei miei primi ricordi di infanzia che ho è stata una moto era così tangibile che quasi la potevo toccare niente a che fare con le moto di adesso ovviamente perché non era bella piuttosto era spartana ma era robusta potente e soltanto per questo assolutamente pericolosa e per questo noi sono innamorato subito da bambino non potevo capire questa sensazione ma oggi però guardandomi indietro capisco che era puro stupore era il desiderio di catturare il tempo il vento il sole la strada la libertà da adulto invece la mia lente mi dice che ci sono dei limiti a quello che possiamo catturare che possiamo catturare con la fantasia e quindi anche quello che possiamo catturare con la nostra macchina fotografica ed è proprio qui che viene il bello perché l'occhio del principiante l'occhio del bambino libero da tutte quante le restrizioni che poi volgarmente le chiamiamo pippe può vedere il mondo con occhi diversi nei miei primi disegni e le mie prime canzoni nei miei primi scritti ho ritrovato sensazioni emozioni che mi hanno veramente lasciato a bocca aperta erano disegni strampalati canzoni semplici prove di poesia o di romanzi che erano assolutamente lontani dalla perfezione tecnica ma erano tutti quanti tutte prove ricche di forza di aspirazione ricordo per esempio quando da principiante ho scritto una canzone in difesa della libertà delle donne quella voglia di gridare basta contro tutte quante le porcate che le donne devono subire è rimasta con me per anni fino a che nel 2017 non ho scritto poi il complesso di Elettra cercando di catturare e dire meglio quello che avevo provato anni prima da piccolo da principiante io non mi sentivo limitato dalle convenzioni oppure dagli stereotipi e quindi da piccolo mi arrampicavo sugli alberi mi sdraiavo a terra impennavo con un cretino mi avventuravo in assoli improbabili anche imbarazzante della chitarra e scattavo fotografie con delle macchine usa e getta senza luce soltanto con la luce di un falò da piccolo da principiante io ero libero ero libero di sperimentare senza limiti in coscienza vi ricordate il mondo ha sempre qualcosa in più da offrire rispetto a quanto siamo disposti a cogliere ma soltanto da bambini però siamo disposti a cercare tutto quello che non conosciamo mentre invece da grandi ci sentiamo troppo maturi per poterlo fare da adulti la nostra visione risulta noiosa sicuramente meno fantasiosa e meno gigantesca perché siamo ancorati a troppe esperienze troppe zavorre a troppe paure ma credo che anche tu come me sei stanco di vedere fotografie scattate sempre dalla stessa prospettiva sempre alla stessa altezza questa cioè quella della fotocamera agli occhi sempre con la stessa composizione con quello sguardo uguale a milioni di altri sguardi mentre invece possiamo e dobbiamo ritrovare quella libertà di sperimentare bypassando la nostra maturità e guardando oltre l'occhio del principiante è un occhio fresco è spontaneo è vivo impariamo dai bambini perché i bambini sono incredibilmente creativi disegnano e dipingono con abbandono mentre invece gli adulti spesso sono governati da atteggiamenti statici e da abitudini che li paralizzano impariamo perciò a mettere da parte le nostre opinioni tutti quanti i nostri preconcetti per vedere il mondo con occhi nuovi la mente può essere una lavagna vuota un ricevitore silenzioso un hard disk vergine ecco prova pure tu a fotografare liberamente sfruttando la mente intuitiva prova a vedere a fotografare senza sapere nulla libera la mente e guarda attraverso la fotocamera in modo spontaneo e allora tutto quanto sembrerà diverso anche una strada che hai già attraversato mille volte anche una giornata di merda come questa sentitevi fighi nel fotografare guardando con occhi sempre nuovi e sperimentando sentitevi fighi quando vi diranno che non avete uno stile unico sentitevi fighi quando vi diranno che le vostre fotografie non sono potenti oppure che sono deboli sentitevi fighi a uscire a fotografare anche se non fotografiate niente qualche giorno e adesso per ringraziarvi anche di avermi fatto compagnia in una notte insonne vi invito a guardare il mondo con meraviglia come se fosse la prima volta perché ricordatevi che ogni cosa conta sempre buonanotte e alla prossima settimana e alla prossima